Buongiorno a tutti. Avverto in via preliminare che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che la partecipazione da remoto è consentita alle colleghe e dai colleghi deputati secondo le modalità stabilite dall'aggiunta per il regolamento della Camera. L'ordine del giorno delle commissioni riunite terza e quarta Camera e terza Senato reca lo svolgimento dell'audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, nell'ambito dell'esame delle relazioni analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023 anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024. Do quindi il benvenuto all'ammiraglio Cavodragone e dai suoi accompagnatori. L'ammiraglio di divisione Luca Conti, Capo Ufficio Generale, il colonnello Manuel Solastri, Capo Ufficio di Stato Maggiore dell'Ufficio Generale e il capitano di fregata Michele Spada, aiutante di bandiera. Dopo l'intervento dell'ammiraglio Cavodragone sarà data la parola ad un parlamentare pregruppo per un primo giro di interventi e dopo la replica dell'ammiraglio potrà avere luogo un secondo giro di domande da parte di altri colleghi che ne facciano richiesta. Chiedo dunque ai colleghi presenti e da quelli collegati da remoto di far pervenire fin da ora al Banco della Presidenza la propria iscrizione a parlare. Lascio la parola quindi all'ammiraglio Cavodragone per il suo intervento. Prego, ammiraglio. Grazie, buon pomeriggio a tutti, Presidente Craxi in arrivo, Vicepresidente Formentini, Vicepresidente Ciaburro, tutti i onorevoli senatori e deputati. Questa è una circostanza particolarmente gradita per rivolgere loro innanzitutto il saluto di tutte le donne, degli uomini delle Forze Armate a cui aggiungo il mio particolare. Sono lieto per questa opportunità che mi offrite di fornire un quadro di insieme delle missioni internazionali delineato dalla delibera per il 2024 e di esprimere la mia gratitudine al Ministro della Difesa che mi ha proceduto in questa sede il 19 marzo scorso, per le sue riflessioni e per le sue indicazioni, ai quali ovviamente io mi riferirò. Io vorrei portare alla vostra attenzione alcune suggestioni integrative, diciamo, rispetto a quelle sviluppate dal Ministro. Faccio riferimento agli scenari operativi e ad alcune tematiche di carattere orizzontale nel contesto del nostro impegno nelle principali aree di crisi. Noi dobbiamo guardare alla geopolitica di oggi e a quella di domani con grande realismo. Anche il terrorismo, questo mostro che non ha mai smesso di essere operativo, ha rialzato la testa nei giorni scorsi con il vile attentato a Mosca contro persone inermi. Il terrore va condannato sempre e in qualunque circostanza. Lo scenario globale, già fortemente compromesso, rischia dunque di complicarsi ancora di più, con conseguenze imprevedibili nei diversi quadranti strategici, dove crescono i punti di attrito con la Russia e i suoi alleati e simpatizzanti. Il nostro impegno per la stabilità internazionale, quindi, è destinato ad aumentare. Un sano esercizio di realismo ci deve portare a considerare la Nato come il solo e vero scudo di cui disponiamo per difendere la libertà e la democrazia. Il fianco est dell'alleanza è una priorità e la prima lezione da trarre dalla guerra in Ucraina è che la difesa della libertà è doverosa, necessaria e riguarda tutti. C'è un Paese che combatte per la sua e anche per la nostra libertà di poter scegliere il proprio futuro. L'aria che si respira in Ucraina o in stati vicini come la Moldova e la Georgia, dove sono stato recentemente, è resa soffocante non solo dalla pressione militare russa, che non risparmia centri abitati e le infrastrutture civili, ma anche da una narrativa fuorviante e incalzante a tutti i livelli, che attraverso il dominio cibernetico, con l'obiettivo di condizionare il libero arbitrio e quindi le libertà democratiche che ne discendono e che non possiamo permettere che vengano negate. Come emerso anche in occasione del Comitato Militare della Nato del gennaio scorso, le tornate elettorali che interesseranno anche l'Italia, come altri Paesi dell'Europa e del Mediterraneo allargato, potrebbero costituire l'occasione per un intensificarsi della strategia di disinformazione da parte della Russia, con l'obiettivo di disorientare le nostre opinioni pubbliche. È evidente che si contrappongono due visioni antitetiche della realtà e del mondo e noi non possiamo permetterci tentennamenti o distinguo. Ne va del nostro modello di vita, dei nostri valori democratici. In tale scenario saremo chiamati a sostenere gli sforzi della Nato e dell'Unione Europea in Paesi, quali ad esempio le citate Moldova e Georgia, per rafforzare le istituzioni e accompagnarne il processo di avvicinamento euroatlantico. Il segretario generale della Nato ha recentemente dichiarato che il confronto con la Russia avrà una portata decennale. La guerra in Ucraina potrebbe anche finire molto prima, ma in realtà gli effetti innescati da tale conflitto si sono già chiaramente propagati a livello globale, accelerando dinamiche e tensioni preesistenti, come l'attuale crisi Medio Oriente, e che richiederanno molto tempo per riassorbirsi. Vorrei poi affrontare il tema di arie ibride, come lo stesso Mediterraneo allargato si sta profirando. Se mettiamo a sistema la crisi nello stretto di Aden, l'evoluzione dello scenario geopolitico dal Sudan al Sahel fino all'Africa occidentale e alla regione dei Grandi Laghi, vediamo prendere forma una fascia di instabilità che minaccia l'Europa, in grado di condizionare flussi commerciali, movimenti migratori, approvvigionamenti energetici. Tali sviluppi complessivi hanno portato l'Alleanza Atlantica a rivedere tanto il proprio modello di forze, il cosiddetto New Force Model, quanto i piani di difesa, da cui discenderà il nostro crescente impegno in tutti i quadranti dove saremo chiamati ad operare. Vorrei infine rivolgere l'attenzione all'Indo-Pacifico e ai Paesi amici dell'area che abbiamo incontrato in occasione della citata riunione del Comitato Militare della Nato nel gennaio scorso. Così come il loro sostegno all'Ucraina è davvero importante, ritengo che noi dobbiamo contribuire a intensificare i rapporti di cooperazione con i partner della Regione, la cui stabilità è ormai connessa a quella delle aree strategiche a noi più vicine. La complessità dello scenario geopolitico attuale e l'estensione delle minacce alla sicurezza internazionale sono all'origine del dispiegamento delle nostre forze armate all'estero, in una dimensione operativa senza precedenti dal dopoguerra. Dai Paesi baltici, lungo tutto il fianco est della Nato, dal Medio Oriente al Corno d'Africa, dal Man Rosso fino al Golfo di Guinea, passando per il Sahel. In coerenza con la nostra appartenenza al perimetro euroatlantico, la difesa assicura un contributo significativo a nove missioni della Nato, otto dell'Unione Europea, cinque delle Nazioni Unite, quattordici iniziative sono invece condotte all'interno di specifiche coalizioni o su base bilaterale. Altro dato significativo è l'approvazione da parte del Parlamento di due nuove missioni, l'operazione Levante, che sono gli interventi umanitari a favore della popolazione palestinese della striscia di Gaza, e l'operazione dell'Unione Europea Aspides per la protezione della libera navigazione nello stretto di Baba e Mendeb e nel Mar Rosso. A fronte di una politica strategica sempre più profilata per la sicurezza degli interessi nazionali e della stabilità internazionale, la difesa sta assumendo un ruolo sempre più visibile nelle aree di crisi sul fianco est della Nato e nel Mediterraneo allargato. Nel corso del 2024 svolgeremo la funzione di Framework Nation nel Battle Group di Forward Presence in Bulgaria, del vice comandante di Eufor Altea. Manteremo la storica guida della missione europea in Somalia, oltre a riprendere il comando di K4. Nel settore marittimo manteniamo il comando operativo di Rini ed avremo il comando tattico di Atalanta, oltre a quello della già citata Aspides, e il comando della Standing Naval Forces nel Mar Mediterraneo. Quindi un impegno anche a livello di comando molto significativo. Alla luce della necessaria e costante espansione dello spazio geostrategico, dove l'Italia, assieme ai Paesi amici e alleati, è chiamata ad operare, vorrei unirmi all'appello del Ministro della Difesa circa l'importanza della legge di modifica alla legge 145 del 2016, approvata dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio e ora al vaglio del Parlamento. Nell'intento di assicurare un maggior margine di flessibilità e efficacia nella proiezione internazionale dello strumento militare, si è ritenuto opportuno introdurre graduali adattamenti, rispondendo anche alle richieste di partner e alleati. Una situazione evidente è quella del fronte orientale dell'Alleanza, dove l'incremento complessivo della nostra presenza è dettato anche dalle esigenze degli alleati più esposti alla minaccia russa e alla nuova struttura dei piani di difesa della Nato che richiedono una maggiore disponibilità di forze preschierate e di rapidissimo impiego. Vorrei anche segnalare l'esempio del Libano, dove il nostro contingente per il 2024 è sostanzialmente analogo agli anni precedenti. Anche in questo caso stiamo operando per supportare una più efficace implementazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. Come testimoniato dall'iniziativa che sotto legge dal Ministro della Difesa io ho personalmente portato avanti, invitando a Roma lo scorso primo marzo i miei omologhi di Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, unitamente al Comandante delle Forze Armate libanesi, che dovranno necessariamente assumere un ruolo più profilato per favorire la stabilizzazione del confine israelo-libanese. Le cosiddette geometrie variabili euro-atlantiche sono uno strumento prezioso di cooperazione che dovrà essere certamente potenziato. Sul piano della proiezione operativa all'estero, lo strumento militare sarà dunque chiamato a contribuire alla politica di difesa e deterrenza della Nato nel quadrante sudorientale, assicurando priorità all'inalzamento a livello ordinativo di brigata del dispositivo Forward Land Forces in Bulgaria, di cui l'Italia è Framework Nation, e coerentemente con gli impegni assunti nell'ambito del Nato New Force Model. In tale ambito si inseriscono anche le contribuzioni al Forward Land Forces in Ungheria e Lettonia, e alle attività di Enhanced Air Policing e alle Standing Naval Forces nel Mal Baltico. Dovrà sostenere poi la deterrenza nei Paesi occidentali, nei Balcani occidentali, con un ruolo di leadership nelle diverse operazioni della Nato e della Unione Europea, incrementando la contribuzione alla missione EU4ALTEA in Bosnia. Dovrà poi garantire un'adeguata presenza militare nel Mediterraneo allargato nei diversi domini, assicurando superiorità informativa, protezione delle infrastrutture critiche anche subacque, nonché deterrenza e dissuasione quando necessario. Dovrà inoltre rafforzare le cooperazioni bilaterali in Africa, con particolare riferimento alla Libia, con la Miasit, al Sahel e in special modo al Niger, con la Misin, al Golfo di Guinea, al Corno d'Africa, con EUTM Somalia, EUTM Mozambico, MIA di Somalia e BIMIS Djibouti, focalizzando altresì la nostra attenzione sui Paesi importanti, quali la Nigeria, l'Etiopia, l'Eritrea, che chiedono di accrescere la cooperazione con l'Italia. Ancora dovrà sviluppare la presenza nel Medio Oriente e il Golfo Persico, dove siamo presenti in Libano, Unifil, Iraq e in Kuwait, e potremo rafforzare la cooperazione con diversi Paesi dell'area che chiedono di intensificare le relazioni militari con l'Italia. In dettaglio, ciò potrà avvenire tramite la partecipazione all'operazione Inerent Resolve e la missione NATO Mission Iraq e di libertà della navigazione, efficientando la presenza nei dispositivi navali operanti nell'area, parlo quindi di Atalanta, EMASO, Combined Maritime Forces, di cui assumeremo tra qualche settimana il comando della Combined Task Force 153, e della nuova missione EUNA for Aspides. A tale proposito, mi preme evidenziare che l'operazione Aspides è un'iniziativa diversa, sia dall'operazione di coalizione Prosperity Guardian, che dalle attività cinetiche a guida anglo-americane. Lo scenario geopolitico di cui ho parlato si sostanzia in un solo concetto. La domanda di sicurezza è esplosa. Più di ogni altra esigenza, i numerosi Paesi che ho visitato nel corso del mio mandato chiedono in via prioritaria di contribuire concretamente a rafforzare la stabilità e la sicurezza nazionale e regionale. Come ho già avuto modo di sottolineare, sotto qualunque latitudine, orizzonte politico e culturale, la sicurezza resta un concetto laico. Senza sicurezza le popolazioni soffrono, i diritti vengono negati, la crescita economica è pressoché irrealizzabile, la coesione sociale è in crisi. Il corollario di tale impostazione laica è la capacità di dialogare con tutti, senza preclusioni, avendo quale obiettivo la sicurezza, la stabilità e il benessere delle popolazioni dello spazio mediterraneo. La loro sicurezza e la nostra, che sono strettamente interconnesse, richiedono uno sforzo cooperativo, come ha sottolineato il Signor Ministro, e le Forze Armate hanno proprio l'obiettivo primario di favorire il conseguimento di una capacità operativa adeguata a mantenere condizioni di sicurezza e stabilità nei Paesi in cui cooperiamo. In tale contesto è importante osservare le dovute distanze dai loro affari interni e lasciare alle leadership locali di risolvere i problemi strutturali, quali la via verso la modernità e la realizzazione di un sistema più efficace di redistribuzione delle risorse. Nel rapporto con i Paesi del Mediterraneo allargato e dell'Africa è importante la ricerca di un punto di equilibrio fra i nostri e i loro interessi strategici. La chiave di volta è la proposta di modelli innovativi di cooperazione fondati sulla reciprocità e la condivisione dei risultati. È una richiesta pressante che mi è stata rivolta da tutti i Paesi da me visitati nello spazio mediterraneo. Come sappiamo, il Presidente del Consiglio ha lanciato un'iniziativa davvero providenziale, il cosiddetto Piano Mattei, proponendo una strategia di cooperazione su basi nuovi e paritetiche, con l'obiettivo di sviluppare un modello di crescita condiviso, rovesciando il consueto paradigma di esercitare un controllo diretto o indiretto sulle risorse di questi Paesi. Sul piano militare, sotto la guida del Ministro, la difesa si fa parallelamente portatrice di modelli innovativi di cooperazione militare basati sul raggiungimento di comuni interessi strategici, sul trasferimento di tecnologia e know-how organizzativi, sul supporto logistico, con il pieno coinvolgimento dell'industria di settore. Lo schema concettuale di fondo è quello di una difesa provider di sicurezza a livello internazionale o di un sistema cooperativo di sicurezza, la cui offerta strategica si sviluppa in una cornice ispirata da alcuni principi di fondo. La non interferenza negli affari interni, l'assenza di condizionamenti di carattere strategico ed economico, il pieno sostegno alle attività di capacity building, l'aiuto alle popolazioni locali, l'affidabilità nel mantenimento degli impegni di cooperazione militare. Tali accordi sono strumenti preziosi perché consentono di insediarsi in Paesi dove, anche per la pesante eredità del colonialismo, è molto problematico entrare, ma è facilissimo uscire. In Niger, ad esempio, stiamo mantenendo le nostre attività di cooperazione militare con la MISI. Il Mediterraneo allargato ha tali bisogni che dobbiamo certamente fare di più e meglio. Tuttavia non solo noi, ma nessun altro, può fare da solo. L'Unione Europea e la Nato devono essere assolutamente coinvolte con proposte e iniziative da concordare con i Paesi dell'area. Questo è un punto cruciale, perché le missioni internazionali e la politica militare sono strumenti preziosi, ma devono poter contare sulla massa critica delle energie euroatlantiche per operare con efficacia nelle ormai tante aree di attrito con la Russia e con i suoi alleati. La messa in comune delle idee e delle risorse nazionali dell'Unione Europea e della Nato deve diventare un sistema operativo sempre più collaudato e strutturato per contenere la minaccia destabilizzante della Russia e dei suoi alleati nel Mediterraneo allargato e in Africa. Solo così potremo capovolgere a nostro favore l'attuale e forte assimmetria operativa che sussiste con Russia, Iran, Cina e altri attori regionali che li vede liberi di poter operare dalle forniture di armamenti letali agli attacchi cyber, alle politiche di disinformazione, in totale deroga alle norme internazionali sulla non proliferazione e non ingerenza negli affari degli altri Stati. Su questo campo noi potremo essere perdenti. Come ho sottolineato nella mia recente audizione in Copasir, è importante fare presto per impedire che lo spazio mediterraneo, anche per effetto della guerra in Ucraina, si trasformi in un'area ibrida. Dobbiamo assolutamente evitare che queste dinamiche prendano consistenza fino a trasformare gli storici legami di interdipendenza e di reciproco arricchimento fra le due sponde del Mediterraneo in armi ibride puntate verso l'Italia, l'Europa e i paesi dello spazio mediterraneo e dell'Africa nel suo complesso. Signori Presidenti, Senatori, onorevoli, il quadro delle missioni e operazioni della difesa per il 2024 mette in luce uno sforzo importante e, io credo, un contributo rilevante alla pace, alla stabilità, alla sicurezza e alla prosperità del nostro Paese. Uno sforzo possibile anche grazie alla grande dedizione, spirito di sacrificio, professionalità e piena adesione ai più nobili valori costituzionali delle donne e uomini della difesa, militari e civili, ai quali in questa sede mi rivolgo con sincera profonda gratitudine. La difesa, come sempre, farà la sua parte. Grazie. Grazie, ammiraglio. Do il benvenuto anche alla Presidente Craxi. Allora, un intervento per gruppo. Si è segnato il Senatore Barca Iuolo per Fratelli d'Italia. Sì, grazie Presidente. Grazie ovviamente al Comandante, al Capo di Stato Maggiore, Generale Cavadragone, per la sua relazione. Credo sicuramente precisa, ficcante, che abbia e che ha toccato insomma tutto lo scenario globale. C'è una condivisione sostanziale, non di maniera, rispetto ai contenuti che ha esposto e quindi è chiaro che su questi non mi dilungo perché veramente la condivisione è integrale. Una sola breve domanda rispetto invece a la questione che ad oggi credo sia quella che può essere considerata più critica non tanto come potenzialità di espansione del conflitto ma come conseguenze dirette rispetto ovviamente a ciò che avviene nella nostra nazione ovvero la vicenda in cui noi siamo impegnati con Aspides. Perché è chiaro che quello è uno snodo fondamentale per l'accappanamento di materie prime, di altri tipi di trasporti e che ovviamente nel momento in cui come sappiamo quello stretto rischia di essere chiusa a navi bandiera occidentale ovviamente le alternative sono con costi enormemente maggiori sia da un punto di vista del traffico marittimo e poi in conseguenza ovviamente anche su ferro e gomma una volta arrivati in continente fuori dal Mediterraneo perché di questo si tratta. Lei ha fatto un passaggio rispetto alla differenza della missione Aspides rispetto alla vicenda anglo-statunitense che nella stessa area insiste. Chiedevo se può spiegare meglio in che cosa si può sviluppare questa differenza e l'altra domanda era questa alla luce di quello che è successo recentemente all'ONU e quindi rispetto a una risoluzione di cessate il fuoco sul conflitto israeliano-palestinese può avere questo qualche tipo di conseguenza sull'atteggiamento degli iuti in Yemen o vede le due cose completamente scollegate? Grazie Senatore Barcaiolo ha chiesto di parlare anche l'Onorevole Amendola PD Grazie Presidente ringrazio l'ammiraglio per la sua precisa e esaustiva presentazione e anche a nome del mio partito ovviamente tutto il sostegno per l'impegno delle donne e degli uomini impegnate in missioni che rendono onore al nostro Paese menzionerei qui innanzitutto quelle del Medio Oriente a partire dalla missione in Libano fino all'ultima citata dal collega Aspides che desta preoccupazioni perché sappiamo benissimo che in quella parte del mondo dopo il 7 ottobre si è risvegliato non solo quello che è il conflitto storico ma anche un attrito tra le potenze e purtroppo il conflitto civile in Yemen che andava avanti da tanto tempo ha fatto sì che il gruppo che attualmente è oggetto di una risoluzione delle Nazioni Unite non è un piccolo gruppo terroristico come ha detto qualcuno ma un attore politico-militare che pone in discussione tutto il commercio e le rotte marite quindi tutto il nostro sostegno e sopporto però la mia domanda è sulla scheda 1725 cioè quella relativa al Sahel perché in quella missione che lei conferma che noi confermiamo in Niger e quella in Burkina Faso insistiamo su una zona del continente africano che è una cintura di sicurezza e di diplomazia e di cooperazione importantissima non solo per il continente africano ma anche nei rapporti tra Europa e Africa e noi sappiamo che siamo arrivati nell'ultimo anno a quattro colpi di Stato incluso il Niger, il Sudan, il Mali abbiamo visto il ritiro delle missioni francesi quindi abbiamo una particolare evidenza anche di una rottura nei rapporti diplomatici tra i paesi del Sahel il G5 Sahel che era una speranza sostenuta anche l'Italia è fallito, non esiste più abbiamo una cintura di insicurezza diplomatico-militare e anche di rottura di quelli che erano rapporti statualità-democrate quindi io vorrei una sua valutazione perché nel confermare quella missione nell'essere presenti in Burkina Faso nell'essere presenti quindi esposti anche non solo sul Mediterraneo la sponda dinanzi a noi ma dentro la cintura del Sahel ci pone degli interrogativi non relativi solo al vostro operato ma politico-diplomatici perché è evidente che dinanzi a stati che hanno rotto il patto democratico ma si sono trasformati in delle dittature con scontri militari fortissimi come quelli del Sudan ovviamente interroga anche la presenza il vostro operato e tutto quello che ne consegue quindi la mia domanda specifica è relativa alla scheda 1725 cioè le missioni Sahel che noi confermiamo insieme all'impegno alla cooperazione Grazie è onorevole Amendola ha chiesto di intervenire l'onorevole Formentin per il gruppo Lega Formentini Sì ringrazio innanzitutto il capo di Stato Maggiore per la relazione chiarissima le chiederei visto che ha accennato pur non essendo ovviamente argomento missioni internazionali all'importanza dell'Indo-Pacifico se ci potesse in questa sede dire qualcosa di più dopo che la Premier Meloni ha annunciato che ci saranno esercitazioni congiunte proprio in quell'area con la Portaere Cavour e il gruppo di battaglia della Portaere l'invio di F-35 la visita successiva della Vespucci e già lo ricordiamo c'è stata la missione di diplomazia navale della Morosini è evidente un rinnovato interesse italiano per quell'area che noi sosteniamo e in questa sede parlamentare attiva presso la Commissione Esteri proprio un comitato che si occupa di Indo-Pacifico un comitato che ha l'ambizione di arrivare ad avere finalmente una nostra visione italiana perché noi facciamo sempre riferimento alla visione indo-europea dell'indo-pacifico ma una nostra visione lo ripeto italiana di quell'area che secondo noi è fondamentale nell'area dove si decideranno il futuro del commercio globale dove andranno ribaditi quei diritti quei valori di libertà di navigazione di commercio che vediamo oggi in pericolo nel canale di Suez ma che sappiamo benissimo essere in pericolo anche in quell'area dove è giusto ribadire la necessità che venga mantenuto lo status quo ed è giusto ribadire che lì vanno difese le democrazie dell'area perché proprio oggi e questo rileva la Cina ha attaccato quel programma di cui anche l'Italia è parte attiva il G-CAP dicendo che questa volontà di continuare a ottenere progressi militari desta preoccupazione da parte dei paesi vicini e della comunità internazionale poi le chiederei anche come fare come Italia sempre più a essere presenti anche a livello bilaterale in un contesto che sappiamo essere drammaticamente degenerato come quello del Sahel grazie grazie onorevole formentini ha chiesto di intervenire il senatore Marton per il gruppo 5 Stelle grazie ammiraglio e grazie al suo staff domanda rapidissima ci sono missioni che lei ha elencato ONU europee e bilaterale sostanzialmente abbiamo abbastanza uomini per fare tutte queste missioni è in previsione diciamo il superamento della legge di Paola c'è già un piccolo superamento di 10.000 unità ma lei ritiene sia utile o necessario è in previsione eventualmente il superamento della legge di Paola e l'assunzione a concorso di altre unità di personale grazie grazie senatore non ci sono più interventi da parte dei gruppi presidente Craxi a proposito di quello che adesso l'ha chiesto il senatore Marton ma sbaglio o c'è ancora che non è mai stata la legge l'agorio le dico già che non so rispondere per un tanto giro la domanda voi perdete allora ammiraglio sì per la replica grazie eccomi eccomi senatore Marco Iolo eccomi buon pomeriggio l'aspides è una missione che è stata generata dall'evoluto dall'Unione Europea anche in maniera abbastanza veloce questi sono secondo me sono anche gli effetti della guerra in Ucraina che in questo senso qui ci ha un po' incentivato i processi i processi diciamo di generazione di questo tipo di reazione perché questa è un'attività reattiva nei confronti di quello che hanno fatto gli UTI che vorrei ricordare tutti quanti fino a qualche anno fa erano un'entità vittima degli vari attacchi con tutta una serie di più o meno veritieri danni collaterali eccetera e oggigiorno sono rivelati una minaccia concreta quindi questo per dirvi come la geopolitica cambia o come la interpretiamo noi a seconda delle stagioni sta di fatto che oggi gli UTI sono una minaccia e ieri erano delle vittime detto questo la missione aspides è prettamente difensiva il concetto che ha le nostre forze navari sotto la bandiera dell'Unione Europea adesso sotto il comando italiano sono quelle di reagire per autodifesa o per autodifesa estesa ai convogli che siamo chiamati a scortare quindi questo è quanto la diversità delle operazioni cinetiche sottoeggi da statunitense e inglese è abbastanza chiara lì vengono fatte attività di attacco sui siti sui siti da dove si presume partano attacchi di droni di missili questo è quello che è tutto quello che è stato fatto fino adesso dalle navi appartenenti a Aspides è per autodifesa su droni o su missili con i sistemi che hanno a bordo la risoluzione ONU sul cessato il fuoco avrà un impatto la risoluzione ONU sul cessato il fuoco ha visto una grossa novità che è quella dell'astensione degli Stati Uniti quindi una certa qual pressione in più su Israele il quale ovviamente non ha apprezzato questa stensione questo potrebbe se fa qualcosa e non posso dirgli che lo faccia dovrebbe edulcorare un po' la posizione di coloro che difendendo la causa palestinese commettono comunque atti terroristici come quelli degli UTI quindi io credo che se avviene dovrebbe poter avere un effetto edulcorante però questo lo vedremo poi col tempo non so se ho risposto alle sue domande passerei all'onorevole Amendola allora Saer Niger Burkina Faso c'è stato effettivamente un grosso cambiamento con il colpo di Stato io ritengo che a livello diplomatico siano state date alla comunità internazionale sufficienti garanzie che un processo di democratizzazione avverrà potrebbe questo avvenire anche nei prossimi mesi da quello che sono che è il mio sentore e questo ovviamente dà sufficienti garanzie per noi per continuare a fare la nostra attività in Niger ne facciamo addestramento con una base diciamo di un numero ridotto di personale che sono circa 250 ai quali aggiungiamo su richiesta della controparte nigerina in base ai loro bisogni delle squadre che chiamiamo mobile training team delle squadre che vanno ad hoc per addestrare in quegli specifici campi le forze armate le forze sicurezza nigerine e poi rientrarsene a casa quindi questo è per avere un footprint una presenza discreta sul territorio siamo rimasti gli unici con gli americani e un po' di tedeschi allora i tedeschi sono circa 100 gli americani sono circa un migliaio e le nostre sono circa 250 gli americani diciamo stanno rinegoziando la loro presenza in niger questo non vuol dire che debbano venire via vuol dire che stanno rinegoziando con l'attuale giunta al governo la presenza come deve essere strutturata la loro presenza in niger invece come ha detto giustamente francesi e Unione Europea sono stati è stato loro richiesto di lasciare il territorio noi rimaniamo perché secondo noi è un punto focale è un elemento cardine per cercare di capire quelli che siano i flussi migratori che partono dal sul fronte diciamo sud occidentale che va poi a unirsi a quello sud orientale che parte dal corno d'Africa e più o meno entrambi vanno a infilarsi in un collo di bottiglia che vede la parte nord del niger come una regione interessata quindi la nostra presenza lì è fondamentale per questo per aiutarli eventualmente in questo processo di democratizzazione perché è un punto che secondo noi è fondamentale che avvenga nei tempi previsti e anche dico la verità per colmare il gap che altrimenti sarebbe colmato da altri paesi non perfettamente in linea con il nostro modo di pensare pronti in maniera molto molto più diciamo garibaldina a subentrare e facendo anche e questo ritorno al discorso di prima un'offerta che a volte è molto più appetibile della nostra in quanto non hanno tutti i vincoli democratici e diciamo tutti i limiti che noi ci poniamo giustamente nell'interloquire con un paese di questa di quest'area cinesi russi iraniani arrivano in massa portano armi non chiedono la ricevuta fiscale tutte queste cose qua che tutto sommato per un paese che sia estremamente desideroso di acquisire determinate capacità ovviamente è molto è molto attrattivo dobbiamo essere più attrattivi noi con un'offerta con un'offerta addestrativa solida migliore delle altre con una presenza in base alle richieste che ci fanno estremamente disponibile e con la volontà di accompagnarli nel processo democratico che probabilmente anche loro ritengono opportuno fare però ecco la nostra presenza in Niger è fondamentale i tedeschi per esempio la vincono la loro presenza alla nostra giustamente per cercare di fare massa critica gli americani stanno ripeto discutendo la loro presenza ma voglio dire qualora si lascia un vacuum un gap viene colmato immediatamente l'abbiamo visto in Mali l'abbiamo visto nella Repubblica Centroafricana e quant'altro con l'uscita dei francesi e l'arrivo in massa di Wagner quindi anche questo secondo me va evitato non so se ho risposto alla seconda domanda alla sua prima domanda onorevole Mendo passerei all'onorevole Formentin l'Indo Pacifico l'Indo Pacifico l'interesse che noi abbiamo che diciamo le nazioni che si presentano con le proprie unità navali in l'Indo Pacifico è quella di sancire ribadire un concetto fondamentale è quello della libertà di navigazione è un concetto che difendiamo con le unghie lo vediamo adesso appunto nel Mar Rosso calcoli che non sarà soltanto il gruppo portaerei di Cavour ma abbiamo strutturato insieme agli alleati una presenza costante di un gruppo portaerei con le navi di scorta nella zona dell'Indo Pacifico a partire da quest'estate con una tornazione circa tre mesi in cui succederanno a noi poi i francesi credo e successivamente anche gli inglesi quindi è una presenza strutturata condivisa e soprattutto che mette in comune le esigenze di tutti quanti noi nell'essere presenti nel aprirci a tantissime realtà di quella zona che possono essere anche un volano per la nostra industria nel ribadire nel supportare di essere presenti soprattutto in quei porti in quelle nazioni la democrazia delle quali va difesa va dato un segnale forte e quindi questo è in linea con quello che abbiamo deciso con gli alleati e penso sia un messaggio molto forte per cercare anche di calmirare la situazione un po' in ebollizione che c'è in quelle aree quindi lo scopo è effettivamente questo che la Russia ci attacchi sul J-Cup sarebbe stupido sarebbe strano se non lo facesse ovviamente è un aereo di sesta generazione che sarà un salto di qualità e che permetterà a coloro che lo impiegheranno di avere veramente una capacità molto 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 più avanzata io non credo comunque sia e non so se ci siano segnali in questo senso che comunque sia una potenza come la Cina se ne possa stare e quindi probabilmente ci sarà sicuramente un qualcosa una contromanovra che possa essere analoga a un aereo di sesta generazione anche per la Repubblica Popolare Cinese noi la domanda su come fare ad essere presenti anche in maniera bilaterale in Sahel lo siamo con il Niger siamo presenti su una missione che devo dire la verità fra tutte le missioni che ci sono state in Niger è quella che attualmente più ben accetta più ben vista più accolta da parte del Niger e questo benvenga non vogliamo farci sfuggire questa occasione soprattutto vogliamo consolidare questa fiducia che il Niger ha nei nostri confronti non so su risposta su domande onorevole Marton abbiamo abbastanza uomini no no assolutamente no la legge di Paola del 2012 in un contesto totalmente differente se lei vede cosa facciamo nel 2012 e vede cosa facciamo oggi ce la mette se le mani nei capelli che non ho però sembra di mettere lo stesso se ce l'avessi però è assolutamente siamo assolutamente sottodimensionati 150.000 è improponibile 160.000 che è quello che attualmente c'è stato approvato è ancora poco 170.000 siamo al limite della sopravvivenza calcoli che dovremmo fare tutto quanto in turnazioni di tre uno in teatro l'altro si prepara e il terzo si riposa perché oltretutto non vuole divorziare questo non accade mai mediamente noi ci strutturiamo su turni di due e sono veramente stressanti io ricordo di fregate classe Frem che essendo però purtroppo classe delle navi all'avanguardia gli equipaggi finivano una missione di qualche mese su una nave facevano le valigie facevano lavanderia una settimana imbarcavano su un'altra Frem perché gli equipaggi erano destratti per quel tipo di nave così all'avanguardia quindi è soltanto un esempio ma questo lo possiamo trovare nell'esercito con turni di impiego massacranti lo possiamo trovare nell'aeronautica con gli schieramenti diciamo sull'unghia che vanno oltre il ritmo di tre squadre quindi sicuramente siamo troppo pochi la legge di Paola del 2012 è obsoleta brutalmente obsoleta sono cambiati i tempi sono cambiate le minacce l'impegno nostro è molto molto più massivo abbiamo un impegno grosso con il New Force Mode della Nato e quindi questo ci chiederà tanto vogliamo una difesa europea e questo ci chiederà tanto quindi la risposta alla sua domanda è no no secco quindi si ha fatto la richiesta per avere più uomini si si e continuo a chiederlo guarda fin quando non mi cacciano non so se ho risposto alla sua domanda in maniera abbastanza polemica grazie ammiraglio a questo punto se ci sono ancora degli interventi onorevole Boldrini gruppo PD grazie presidente mi scuso per purtroppo il ritardo sono riuscita a farcela no vedendo il dossier che noi abbiamo avuto il dossier della Camera e del Senato mi suscitava curiosità la scheda 21 in cui si dice che noi proroghiamo la missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia e di funzionari i Yemeniti allora lei ci dice che insomma lo Yemen una volta era diverso da quello che è oggi e questo lo sappiamo bene tre quarti dello Yemen da quello che risulta è controllato da iuti quindi non è più che sono una forza diciamo marginale chi sono i funzionari i Yemeniti che noi andiamo ad addestrare cioè perché qui non c'è perché infatti se lei vede anche più avanti c'è scritto accordi bilaterali con lo Yemen non meglio specificati nel dossier allora io cercavo di capire quale tipo di accordi noi abbiamo con chi ce li abbiamo soprattutto con chi non ben meglio specificati perché appunto al momento risulta essere comunque nella maggior di controllo del territorio più iuti che il governo Ombra che peraltro non sta più Yemen e poi un'altra cosa è sulla missione Mar Rosso è vero noi abbiamo aderito a una missione cosiddetta difensiva ma mi chiedo in base alla sua esperienza lei non ritiene che un tipo di missione così sia borderline nel senso che è molto il crinale molto stretto quella che viene definita una missione difensiva potrebbe facilmente prendere un'altra veste anche senza volerlo ma perché comunque il terreno in cui si opera il teatro in cui si opera è così diciamo contrapposto che se non si arriverà effettivamente a un cessate il fuoco a Gaza che il Consiglio di Sicurezza lo ha per la prima volta invocato ma abbiamo visto la risposta del del governo israeliano cioè non si rischia che questa missione che nasce in un modo difensivo possa facilmente trovarsi invischiata in una missione dai connotati diversi da quelli difensivi grazie presidente grazie onorevole Boldrini onorevole Billi gruppo lega anche io ringrazio l'ammiraglio cercherò di essere brevissimo o ammiraglio diciamo la Cina spende circa 240 250 miliardi di dollari per la difesa i paesi dell'unione europea in valore assoluto ne spendono di più considerato che nel prossimo futuro probabilmente andremo verso una divisione delle responsabilità tra Stati Uniti e Unione Europea dove l'Unione Europea dovrà molto più fare con le proprie forze rispetto a quanto fa adesso non solo nel territorio europeo ma anche in versione world wild e quindi io mi immagino come ammiraglio ci debba essere e bisognerà attuare per forza una maggior coordinazione anche nelle spese di difesa dell'Unione Europea quindi non solo un coordinamento formale sul territorio e sugli scenari di operazione ma soprattutto dal punto di vista finanziario mi chiedo se cosa lei ne pensi di questo come possa essere possibile questa maggiore coordinazione finanziaria dei paesi europei per cercare di spendere meglio molto meglio quello che già oggi abbiamo a bilancio come paesi dell'Unione Europea grazie mille grazie onorevole Billi ammiraglio se vuole ancora rispondere a queste domande grazie onorevole Boldrini scusi allora scheda 21 Yemeniti sì è previsto dunque sono accordi in itinere sono accordi da concretizzare con il governo Yemenita cioè con la parte non utile però devo correggere a mio a mio diciamo aggiornamento stamattina dell'area che interessa diciamo il padronato Uti è un terzo cioè due terzi sono Yemen governativo e un terzo è Uti sì sì dal punto di vista della superficie è meno di due terzi quindi questo è previsto e sarebbe previsto la costituzione di un assetto tipo miadit quello che abbiamo in Somalia con le forze con il governo Uti per anche non soltanto capaci di building diciamo di sicurezza ma anche l'institution building quindi da parte le parti ministeriali la parte diciamo a livello politico questo è l'intenzione di un processo in itinere che ovviamente attualmente è fermo no 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 con gli altri no l'aiuti no mi sto sbagliando scusa anti con l'aspetto parliamo governativo con l'aspetto governativo sì mi scusi l'Apsos quindi questo è centrato su Djibouti ovviamente il polo che interesserebbe questa attività rimane Djibouti la nostra base quindi ci sarebbe questa interrelazione questa attività con diciamo il governo yemenita su base di richiesta loro per supporto alle forze di sicurezza quindi la parte militare chiamiamola in senso lato e alla parte governativa la parte istituzionale quindi ministeriale un po' come facciamo in Iraq adesso che facciamo una missione di institution building questo è quanto per quanto riguarda invece il Mar Rosso ma io non ho dubbi su questo noi abbiamo delle regole di ingaggio rigorose che vengono approvate a livello ministeriale non c'è possibilità di escalation cioè i nostri hanno reagito e soltanto reagiranno non ci può essere un coinvolgimento su attività anche perché calcoli che ci sono attività cinetiche fatte da americani e inglesi adesso in quella stessa sede quindi non c'è mai stato nessun tipo di commistione nessun tipo di overlapping i nostri sono lì per difendere se stessi e in senso lato le navi che devono scortare basta non faranno di più un colpo in più non verrà sparato che non sia per un qualcosa come è già successo che si dirige con determinate caratteristiche di moto velocità quota non rispondendo a determinato un certo numero di messaggi a questo punto viene tirato giù come abbiamo fatto noi e questo è un sistema chiamiamola cipolla per essere sicuri di essere soltanto reattivi l'usa si staccherà può darsi adesso vediamo c'è tanta anche credo ci sia anche dobbiamo mettere a calco anche della retorica elettorale perché come la facciamo noi in Italia la retorica elettorale la fanno anche in America quindi poi vedremo cosa succede ma perché invece non la vediamo sotto un'altra ottica dicendo che l'Europa si dovrà ulteriormente responsabilizzare come già sta succedendo per gli esiti della guerra in Ucraina in cui c'è stato onestamente abbiamo notato tutti un impulso diciamo un'accelerazione nella volontà di costituire una difesa europea perché non possiamo vedere invece che questo potrebbe essere un elemento invece di guardare tutte le crisi come un'occasione un elemento in cui ulteriormente spingerà l'Europa a andare in una certa direzione ulteriormente farà in modo tale che l'Europa diventi e questo è un punto fondamentale secondo me diventi un elemento modulare che possa essere perfettamente inserito senza duplicazioni e sovrapposizioni nella Nato la quale Nato probabilmente in un ipotetico parziale disingaggio statunitense dovrà comunque assumere determinate funzioni in più e quindi diciamo il binomio Nato Unione Europea possa essere chiamato in causa a sopperire a un eventuale disingaggio statunitense dal patto atlantico dallo scenario che li ha visti sempre presenti io la vedo anche in questo senso qua e credo che sia una strada inevitabile da percorrere che ci porterà anche e questo è all'attenzione perché abbiamo avuto necessità di rivedere anche la nostra politica industriale sia dell'alleanza che europea in senso più ristretto perché abbiamo notato che c'è necessità di accentrare determinate attività industriali eventualmente creare dei poli specifici che potessero servire tutte le nazioni appartenenti suddivise in diverse aree geografiche in modo tale da produrre tanto quindi dare possibilità all'industria chiamata in causa di avere delle certezze diciamo di ritorno industriale per il loro impegno maggiore e avere comunque una comunalità intanto degli armamenti parliamo che ne so dei calibri dei calibri che possono essere tutti quanti perfettamente uguali un calibro 155 non è detto che funzioni su due canoni di due nazioni differenti quindi questo è una cosa che stiamo già studiando proprio per vedere di ottimizzare quelle che sono state le esperienze in Ucraina e quindi questo secondo me è la via e l'altra via che stiamo cercando di perseguire o meglio di convincere in maniera abbastanza assertiva l'industria a fare joint venture cioè cercare di abbattere rinunciare forse un po' della sovranità industriale che ha sempre caratterizzato le industrie tutte quante di tutti i paesi perché è un problema che ha denominatore comune di tutti i paesi che sono seduti attorno a un tavolo per vedere quali erano i take away le lezioni apprese dalla guerra in Ucraina hanno constatato questo c'è stata sempre tanto una grossa enfasi sulla sovranità industriale di ciascuna industria che probabilmente vanno un po' abbattute vanno un po' sgretolate e vanno create delle joint venture che consentano di produrre di più con una certezza di investimento e produrre in maniera più standardizzata e secondo me spendere meno o meglio spendere quello che deve essere speso senza sprechi su questo questo è una cosa che la guerra in Ucraina purtroppo ci ha evidenziato non so se ho risposto alle sue domande grazie ammiraglio non ci sono più domande io quindi ringrazio ancora l'ammiraglio Giuseppe Cavodragone i suoi accompagnatori e soprattutto per il suo tramite un buon lavoro a tutti gli uomini e donne della difesa grazie e dichiaro anche conclusa l'audizione informale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti